Allora amici, la prima domanda alla quale rispondo è quella che mi fanno da tutta la vita. Se avessi guadagnato 10 centesimi per ogni volta mi hanno posto questa domanda, sarei ricco. Mi chiedono tutti perché squadra fa il tifo? Allora, io lo so che è difficile da credere, perché chi segue il calcio è tifoso. Ma noi lavoriamo con il calcio. Io lavoro quando ho 18 anni con il calcio. E allora le grandi passioni si diluiscono, magari le grandi passioni per alcuni giocatori, ma non per una squadra. Poi, mentre facciamo la telecronaca, amici, noi abbiamo 3-4 persone in cuffia, 100 cose a cui stare attenti. Un telecronista disse, per me sono formiche bianche contro formiche nere. Non è proprio esattamente così, però certo, diciamo che l'attenzione è su tutte altre cose. Lo so che, anche mentre dico queste cose, continuerete a rimanere dalla vostra opinione, da Roma, dell'Inter, del Milan, da Juventus, è tutta la carriera che è così. Allora, in realtà, io l'unica squadra per la quale negli ultimi anni ho sofferto è l'Alessandria, che è la squadra di alcuni miei amici carissimi e della città di mia moglie. Ero anche libero di farlo perché era prima in Serie C, prima ancora quando c'era in C2. E allora andavo a vedermi le partite, tifavo, ma tifavo proprio. Ho tifato tantissimo quest'anno, sono andato a vedere la finale dei play-off, proprio al centro dell'Europeo, e ho risultato. Mi sono anche commosso quando l'Alessandria ha segnato il rigore decisivo che l'ha portata dopo oltre 40 anni in Serie B. Quindi, la risposta è in particolare nessuna, ma se proprio devo dirne una, l'Alessandria. Non ci credete? Eh vabbè, io che vi devo fare.